Detraevano le ritenute fiscali dagli stipendi dei loro lavoratori, ma non versavano i corrispettivi all'erario. Gaetano Schiavone, 66 anni, di San Marzano del Sarno, Umberto Criscuolo, 63 anni, di Scafati e Antonio Farina, 49 anni, di Pagani, tutti ritenuti amministratori di fatto e di diritto della società Vesuviana Service di San Giuseppe Vesuviano, sono stati arrestati dagli uomini delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola. Al termine di una complessa indagine, la Guardia di Finanza ha scoperto una froda ai danni dello Stato per oltre 6 milioni di euro, centinaia i lavoratori vittime della truffa, organizzata nei minimi dettagli dei datori di lavoro. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un dipendente della società che, una volta andato in pensione, ha scoperto di non aver maturato i contributi per la retribuzione pensionistica. A lui si sono accodati un centinaio di altri lavoratori che, dopo i relativi controlli, hanno scoperto di non aver maturato i contributi per la pensione. Nel corso dell'operazione, gli uomini della Guardia di Finanza hanno inoltre sequestrato beni per oltre 30 mila euro.